Ciao amici, si è appena concluso l'allenamento del Legnano, siamo in compagnia di Davide Anelli. Ciao Davide! Salve a tutti! Allora, benvenuto ai nostri microfoni, il tuo esordio. Come prima domanda in assoluto ti chiedo, sei tornato in panchina, quindi hai recuperato dall'infortunio, come ti senti? Certo, adesso sono stato fermo un mese, praticamente due mesi, e dopo un'infortunio a Polpaccio adesso mi sento bene. Mercoledì abbiamo la Coppa, una partita importante contro Brembate che sicuramente dobbiamo vincere. Noi ci teniamo molto alla Coppa e l'unico pensiero nostro è portare questa qualificazione alla semifinale. Tra l'altro tu avevi iniziato la stagione segnando, avevi segnato al Milan anche, quindi i tifosi hanno dei bei ricordi di te e poi purtroppo la storia si è interrotta per il problema Polpaccio e non si vede l'ora di ricominciarla. È stata una sfortuna anche per me non poter esserci questa prima parte di campionato e di Coppa. e ho iniziato bene col Milan, ho finito, mi sono interrotto nel triangolare appunto con un gol e adesso sono qui per rientrare e cercare di dare continuità appunto come all'inizio del campionato, all'inizio stagione. Allora ci vediamo presto in campo a questo punto. Va bene, speriamo già da mercoledì. Ok, ciao. Grazie, grazie mille. Grazie mille.